Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano c'è la cronaca, vi sveliamo i dettagli dell'operazione attraverso la quale la squadra mobile di Salerno ha eseguito 45 misure cautelari nei confronti di un gruppo che spacciava droga, con un giro che si aggirava tra i 70 e i 100 mila euro, la gravità, e che continuava a effettuare questo smercio anche durante il periodo del lockdown, approfittando di file davanti ai supermercati o davanti agli uffici postali. 45 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. È una vasta operazione antidroga quella che ha smantellato un'organizzazione criminale di traffico di droga eseguita questa mattina dalla squadra mobile di Salerno, che coadiuvata dagli agenti di altre questure, tra cui quella di Napoli, ha sgominato alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori in grado di rifornire costantemente le piazze di spaccio di Salerno e dei comuni vicini. Con l'aiuto dei reparti prevenzione crimine delle unità cinofili e con il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato, le misure cautelari emesse dal GIP sono state notificate ai destinatari accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno identificato i capi dei gruppi criminali nelle persone di Luca Franceschelli, 34enne, e Fabio Salzano, 27enne, entrambi salernitani, ricostruendo l'intera filiera del traffico di droga a partire dai pusher fino ad arrivare ai rifornitori della sostanza stupefacente, con ramificazioni anche nell'Interland napoletano. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Salerno e coordinata dalla Procura della Repubblica, la DDA di Salerno, ha posto in evidenza l'esistenza di compagini criminali ben organizzate operanti nell'intera provincia di Salerno, capaci di riversare massicciamente e in modo costante e sistematico sostanze stupefacenti in diversi quartieri della città e nei comuni limitrofi, anche dell'agro, disvelando nel contempo le illecite attività connesse all'acquisto, al trasporto, alla detenzione, lavorazione, confezionamento, vendita e cessione di droga di tipo cocaina, hashish, crack e marijuana. Per non farsi scoprire, i soggetti durante le conversazioni telefoniche intercettate adoperavano sempre un linguaggio criptico senza mai citare il reale oggetto dei loro colloqui. Tra gli arrestati figurano anche tre donne, Giovanna Liguori, residente a Battipaglia, e le salernitane Teodora Pace e Silvia Pappalardo. Durante l'operazione definita chef crack KO gli agenti durante le perquisizioni hanno anche scoperto quantità di hashish, una pistola a tamburo e 700 mila euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita di droga. Ed ulteriori dettagli, ma soprattutto la sottolineatura dell'importanza di questa operazione è stata rivelata anche dal questore di Salerno, Ficarra, che Barbara Albero ha intervistato. Eredi di clan e di organizzazioni criminali del passato, molti di loro già arrestati più volte per spaccio e traffico di droga in provincia di Salerno. E Luca Franceschelli, 34enne salernitano, già noto alla giustizia in precedenti operazioni che lo hanno portato in carcere per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente con relativo finanziamento degli acquisti di vari partite anche dall'estero. Il capo dei gruppi criminali, con Fabio Salzano, 27enne salernitano, entrambi finiti nuovamente in manette questa mattina con altre 43 persone nell'ambito della vasta operazione antidroga interprovinciale della squadra mobile di Salerno, che, coadiuvata dagli agenti di altre questure, tra cui quella di Napoli, ha sgominato alcuni gruppi trafficanti e spacciatori in grado di rifornire costantemente le piazze di spaccio di Salerno e dei comuni vicini anche dell'agro. La droga veniva acquistata nel napoletano, un volume di traffico notevole da 70 a 100 mila euro mensili, un via vai continuo per l'acquisto e lo spaccio che non si è fermato neanche durante il periodo del lockdown. Incontri che coincidevano con quelli consentiti al supermercato, come al tabacchio in prossimità delle farmacie, alle poste o ai distributori di benzina. Alcuni degli arrestati ai domiciliari commissionavano il lavoro alle mogli. La droga, durante le conversazioni telefoniche, veniva definita profumi, mentre quando c'era la polizia in giro si affermava che c'era pioggia. Questi alcuni dei dettagli dell'operazione spiegata ai nostri microfoni dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra. Alcuni dei odierni arrestati sono persone che già conoscevamo, a volte anche eredi di clan o di organizzazioni del passato, come lei ben cita adesso. Per cui il nostro monitoraggio è continuo. Noi partendo dal monitoraggio che facciamo nei confronti dei clan e della criminalità organizzata, spesso ci accorgiamo di tutte le loro attività. E in questa circostanza, questa è un'attività che seguiamo ben dal 2019, con rivoli anche nel 2020, durante il lockdown, e nella quale abbiamo scoperto che alcuni degli odierni arrestati, ripeto, sono persone che hanno ereditato questa attività dal clan anche del passato, del Salernitano. Non è mancato lo spaccio, lei faceva riferimento, durante il periodo del lockdown. Dove si spacciava e in che modo? Sì, approfittavano ovviamente delle aperture, delle finestre consentite dalla normativa vigente, per cui ci è capitato di vedere persone che si incontravano davanti alla posta, si facevano la fila fittiziamente davanti alle poste per scambiarsi informazioni o anche merce, davanti ai supermercati, davanti alle farmacie, ovunque era possibile, facevano di tutto per potersi far notare. Alcuni di questi erano agli arresti domiciliari, mandavano le proprie donne, i propri figli addirittura a comprare la merce. Tante intercettazioni ambientali, telefoniche, che cosa si è scoperto? C'era anche un linguaggio particolare per potersi incontrare e per cedere la droga? Sì, loro usavano in particolare una terminologia che teneva i profumi, citando alcune marche di profumi, usavano la parola toro per dire cocaina, quando vedevano la polizia in giro diceva che stava piovendo, ovviamente cercavano di individuare un linguaggio cripto, ma l'esperienza e la capacità professionale dei poliziotti ormai fa sì che ci si riesce facilmente a decifrare e interpretare questo loro linguaggio. Che stima di spaccio si è avuto durante tutto questo periodo di indagini e soprattutto che tipo di droga si spacciava in modo particolare e con che costi? Guardi, la droga era di tutti i generi, abbiamo avuto la cocaina, l'hash, l'eroina, e la cifra è abbastanza notevole, si parla di un traffico dai 70.000 ai 100.000 euro mensili, e quindi questo è tra l'altro nell'operazione di stanotte è stata sequestrata una somma adesso che va tra i 700.000 e il milione, abbiamo sequestrato qualche pistola, abbiamo sequestrato altra sostanza stupefacente, per cui l'attività è piuttosto notevole e questo mi piace rimarcare ancora una volta l'operato del nostro personale, dei nostri investigatori, che in un periodo quale questo che voi conoscete benissimo ci sta impegnando su tutti i fronti, anche nell'attività ovviamente dei controlli anti-Covid, hanno consentito di fare un'operazione per la quale solo per il numero degli arrestati che è di 45, voi potete immaginare che seguire 45 persone in tutte le loro attività con gli appostamenti e pedinamenti è un'opera veramente grande, però noi vogliamo che la gente di Salerno, della provincia di Salerno sappia e si renda conto anche con queste operazioni che noi non ci stanchiamo mai, la nostra attività è veramente continua nell'interesse di perseguire ogni attività criminale della provincia. Ed un applauso al questore e alle forze dell'ordine impegnate in questa importante operazione antidroga è stato espresso dal deputato salernitano Gigi Casciello che in una nota parla di una risposta importante di legalità e sicurezza per la città di Salerno, sicurezza di cui c'è estremamente bisogno in questi tempi difficili di emergenza sanitaria e crisi economica. segnalo ha aggiunto Casciello che le nostre forze dell'ordine non hanno mai abbassato la guardia. E a conferma delle sue parole c'è già una persona fermata per la rapina effettuata nelle prime ore della mattina di oggi, danni di una ricevitoria in via Posidonia a Torrione, un bottino da 2000 euro, i dettagli da Barbara Albero. La rapina a mano armate è avvenuta intorno alle 10, vittima a una ricevitoria dell'otto di via Posidonia al civico 59 di Torrione, qualche ora dopo una lunga ricerca in zona il fermo di un uomo. Così la polizia in pochissimo tempo è riuscita ad individuare il rapinatore descritto dal titolare della rivendita che questa mattina sotto la minaccia di armi è stato costretto a consegnare l'incasso. A monta a 2000 euro il bottino portato via dal malvivente, l'uomo stamani è entrato nella ricevitoria dell'otto fingendosi cliente, attendendo in fila per avvicinarsi dove si effettuano le giocate. Giunto il suo turno ha dapprima finto di balbettare, poi si è avvicinato maggiormente al banco dove c'era il titolare e nel giro di pochissimo tempo ha estratto dal giubbino una pistola ed un coltello. Così ha minacciato l'esercente che non ha opposto alcuna resistenza e preso dalla paura ha consegnato l'incasso di circa 2000 euro. Subito si è dileguato a piedi mentre in quel momento si abbatteva nella zona un forte temporale. Nessuno infatti all'esterno della ricevitoria di via Posidonia al civico 59 ha notato quanto fosse accaduto ma l'esercente non si è perso d'animo ed ha subito chiamato il 113 facendo giungere sul posto alcune pattuglie di polizia con il supporto dell'arma dei carabinieri. È iniziata subito la caccia all'uomo nella zona vicina al mercato di Torrione e alla chiesa di Santa Croce sulla scorta della descrizione ben dettagliata fatta dal titolare della ricevitoria. L'uomo di circa 50 anni, alto, indossava un giubbino di colore scuro e quando ha abbandonato il negozio ha lasciato un fortodore di alcol. Il rapinatore potrebbe non essere sfuggito all'occhio delle telecamere presenti all'interno della ricevitoria e nella centralissima via Torrione. Parliamo ora, restando nella città di Salerno, dell'allarme che cresce per il numero dei contagi confermato ieri anche dal sindaco di Salerno. Oggi c'è la presa di posizione dell'associazione Help che, anche alla luce delle lunghe file che si registrano ogni giorno davanti alla sede dell'USCA, chiede attraverso il vicepresidente Lorenzo Forte di attivare una seconda sede nel comune capoluogo per l'USCA. Ha scritto al presidente della regione Campania, al sindaco di Salerno e al dirigente dell'Aslo ufficio di prevenzione, l'associazione Help tutela il sostegno dei consumatori che, attraverso il suo vicepresidente Lorenzo Forte, chiede l'immediata nascita di un'altra USCA nella zona occidentale della città di Salerno e soprattutto di rendere pubblico ciò che sta succedendo nel capoluogo. Si corra ai ripari, dice Forte, per impedire che la situazione diventi pericolosa e fuori controllo. È sempre più evidente che una sola USCA in città non è una soluzione adeguata, si legge nel testo della lettera, c'è necessità di aprirne un'altra e di rafforzare i servizi territoriali per essere più efficienti e combattere sul nascere i focolai di contagio. Le immagini parlano chiaro, ogni giorno davanti alla sede USCA di Salerno si registrano più di 80 auto in attesa. Ed anche ieri a confermarlo è stato il sindaco di Salerno, nel capoluogo si sta registrando un incremento dei contagi. L'associazione HELP esprime preoccupazioni anche sull'ospedale Ruggi d'Aragona. Il pronto soccorso, si legge nella stessa lettera, è quasi al collasso e a riguardo l'allarme dell'unità di crisi è inquietante. Un terzo dei contagiati rispetto al computo provinciale risiede a Salerno città. Per l'associazione HELP è il momento di dare risposte più puntuali sull'assistenza domiciliare anche. Non è il momento di cercare le responsabilità e capire cosa non ha funzionato, perché ci sarà il tempo per farlo. Non è il momento delle accuse alle istituzioni, ma è certamente il momento di lavorare insieme, questa volta con trasparenza e con determinazione, al fine di bloccare una situazione che rischia di diventare un'emergenza fuori controllo. E al sindaco di Salerno ha scritto oggi anche il presidente della commissione trasparenza al comune di Salerno, il capogruppo della nostra libertà Antonio Cammarota, che chiede al comune di Salerno di ricordare il giorno del ricordo. Ricordare la foibe con un gesto istituzionale per la memoria nella giornata di domani, il giorno del ricordo. È indirizzato in modo particolare al sindaco di Salerno e all'amministrazione comunale la richiesta che è stata lanciata questa mattina dall'avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e capogruppo della nostra libertà, che ha rimarcato come quella pagina strappata di storia che non abbiamo potuto studiare a scuola, oggi sia diventata una legge dello Stato e abbia ripristinato la verità su quella tragedia. Credo che sia il sindaco come riferimento istituzionale di una città a dover ricordare le foibe prima ancora che lo facciano giustamente riferimenti politici, proprio perché le foibe sono stata una tragedia del popolo italiano, del popolo italiano intero, una pagina strappata del libro di storia. Io per esempio quando stavo al liceo non ho studiato le foibe e questo lo dice lunga su una lacuna grave che poi è stata ripristinata in sede istituzionale con una legge dello Stato che ha voluto il giorno del ricordo. Che cosa propone al sindaco per poter effettuare questo ricordo? Qualunque cosa, purché ci sia, perché spazzi il campo anche da strumentalizzazioni politiche che la storia non deve avere e perché le istituzioni prevalgano nel momento in cui c'è da ricordare la storia, quella vera, quella del popolo italiano, sulle strumentalizzazioni politiche. Qual è il messaggio importante che arriva e che può arrivare ai ragazzi di oggi da questo ricordo? Che la libertà è il più alto dei valori, ma senza la verità non c'è la libertà. L'allerta meteo che oggi ha tenuto chiuse le scuole in sei comuni, compreso il capoluogo continua a provocare danni. Anche a Giungano un masso venuto giù dal costone ha travolto un'auto. I dettagli nel servizio. Piovono massi sulla carreggiata, tragedia sfiorata a Giungano. Paura questa mattina nel centro storico del piccolo comune cilentano, dove una pietra di enormi dimensioni, staccatasi improvvisamente dal costone roccioso conosciuto come Rupe Cantenna, ha centrato in pieno un'autovettura parcheggiata di sotto, in via Pisacane. Nel violento impatto che ha completamente distrutto l'abitacolo, l'alfa Romeo mito nera è stata fin anche spostata di alcuni metri. Sul luogo sono intervenuti subito i vigi del fuoco di Agropoli, coordinati dal capo di staccamento Angelo Piccariello, unitamente ai carabinieri della compagnia Agropolese, diretti dal capitano Fabio Lagarello. I caschi rossi hanno interdetto al transito la strada e la zona, che nei prossimi giorni dovrà essere interessata da opportune verifiche onde a evitare nuvi crolli e smottamenti. Sul posto anche il sindaco Giuseppe Orlotti, che ha immediatamente allertato Genio Civile di Salerno e Protezione Civile per procedere alla messa in sicurezza dell'area, dalla quale verranno evacuate a breve tre abitazioni con altrettante famiglie, esposte al pericolo di frane. Ed intanto un'altra frana si è verificata anche a Salerno, sulla strada che porta Giovi nei pressi di Casa Manzo, su Via Panoramica, dove già c'era stato un altro cedimento e dove l'amministrazione comunale sta lavorando per mettere in sicurezza il costone roccioso dopo un incendio. Ma, come dicevamo, oggi è anche la giornata dell'allerta meteo. A parte Salerno ha tenuto chiusa le sue scuole anche il comune di Cava dei Tirreni. Così come nel capoluogo però a scatenare le polemiche è stata la decisione prevista dalla legge di non poter effettuare la DAD quando le scuole sono chiuse per l'emergenza maltempo. Vediamo cosa è successo a Cava dei Tirreni. Il maltempo, come annunciato, si è abbattuto sulla città di Cava dei Tirreni. A finire al centro dell'attenzione in queste ore caratterizzate da imponenti precipitazioni è stata la decisione assunta dal primo cittadino Vincenzo Servalli che in seguito all'allerta meteo di colore arancione dinamata dalla protezione civile regionale per la giornata di martedì 9 febbraio con un'apposita ordinanza ha disposto la chiusura per la giornata di oggi di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado garantendo comunque la didattica a distanza. Un passaggio quest'ultimo che ha sollevato polemiche relative appunto alla legittimità da parte del sindaco di disporre la DAD in caso di allerta meteo. Secondo me il sindaco per quanto riguarda l'allerta meteo può disporre la chiusura delle scuole ma per quanto riguarda di imporre tra virgolette la didattica a distanza agli allunni e ai dirigenti scolastici questo secondo me non può farlo perché è prevista la didattica a distanza ma soltanto in caso del Covid-19. Dal canto suo il primo cittadino ha spiegato le ragioni della scelta. Viviamo un momento particolare già da molto tempo i nostri ragazzi hanno una difficoltà di avere una continuità didattica non stanno andando a scuola eccetera e mi è parso opportuno che in queste circostanze in un contesto di emergenza sanitaria ma di un allerta meteo sopravvenuto di chiedere al mondo della scuola di attivare comunque la didattica a distanza. Mi è stato spiegato poi molti mi hanno contestato questa scelta della didattica a distanza perché la didattica a distanza si può fare soltanto per l'emergenza sanitaria e non per l'allerta meteo. Ovviamente io farò delle verifiche dal punto di vista anche della giurisprudenza, della legislazione io non voglio forzare nessuna mano e né esercitare prerogative che non mi appartengono mi è parsa soltanto una scelta come dire di buon senso quello di consentire in una giornata come questa ai ragazzi comunque di poter fare... Pensare alle famiglie bisognose è in difficoltà e l'obiettivo dichiarato da McDonald's per l'iniziativa che è stata presentata questa mattina e che prevede la donazione di pasti. I dettagli nel servizio. Saranno 200 i pasti caldi ogni settimana fino a marzo che McDonald's e Fondazione per l'iniziativa Ronald McDonald doneranno nell'ambito dell'iniziativa sempre aperti a donare che approda Salerno e riguarderà diverse strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà convenzionate con Banco Alimentare Campania. I ristoranti McDonald's di Via De Greci presso il centro commerciale Le Cotoniere di Via Roma saranno coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei pasti ritirati e distribuiti all'associazione Labbraccio e all'associazione Filotea. Le donazioni nella città di Salerno nella cui provincia McDonald's conta sette ristoranti faranno parte del progetto Sempre Aperti a Donare lanciato appunto da McDonald's, Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. Il progettivo innanzitutto è quello di raggiungere circa 100.000 pasti nel periodo fra dicembre e fine marzo e quindi in quest'ottica ciascuno di noi si attiverà nel distribuire attraverso alcuni punti vendita che ciascuno di noi andrà a definire sul territorio in base alla logistica, alla distribuzione, e alla facilità di accesso da parte dei soggetti poi designati da parte di Banco Alimentare o delle altre associazioni che con noi compongono questa azione. L'obiettivo, come dichiara Luigi Snichelotto della McDonald's, è aiutare le famiglie più bisognose soprattutto in questo particolare momento storico ed economico. Cioè essere vicino alla cittadinanza, ai nostri concittadini, ai nostri clienti e anche a coloro i quali in questo momento soffrono più degli altri perché magari appunto sono dei soggetti svantaggiati da un momento di difficoltà economica, difficoltà sociale, difficoltà lavorativa e quindi in questo aspetto sono piccoli o grandi gesti che si fanno da parte della collettività di coloro i quali possano donare e dare una mano. Abbiamo già parlato di quello che sta accadendo a causa del maltempo ma vediamo cosa si aspetta nelle prossime ore con le nostre previsioni. A Salerno dal 1982, Ippocar, officina e ricambi meccanici, specialisti nell'installazione di impianti a gas e GPL metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato, officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione, ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto e inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice, servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar, via Pietro del pezzo 55. Nuova sede di Apicenza 94-100. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Ed ora il basket. Niente turno infrasettimanale per la Givova Scafati. La gara con Ferrara è stata rinviata a causa di un'epidemia da Covid-19 scoppiata all'interno del club emiliano che ha registrato 14 casi negli ultimi giorni. La squadra di Finelli dunque resterà ad allenarsi a Scafati in attesa del prossimo match in programma domenica al Palamangano contro Sansevero. È tutto. Termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. TV Oggi on demand TV Oggi on demand Oggi on demand recordiamo che